Il caso del cinese rientrato in Irpini a giovedì e da ieri mattina in isolamento domiciliare fiduciario sta animando il dibattito sociale in provincia di Avellino. Intanto a gestire il tutto a Bisacce è l'asla che ha allertato il medico di famiglia per i controlli del caso ed è il comune che in stretta sinergia con la misericordia locale sta gestendo la logistica dell'isolamento provvedendo a fare recapitare al giovane 37enne pasti e quanto altro serve e servirà per i prossimi 12 giorni a raccontarci come stanno andando le cose e il comandante della Polizia Municipale di Bisaccia, Gerardo Rollo. Ci stiamo raccordando prima di tutto con le varie istituzioni, abbiamo avuto indicazioni dall'asla e ci ha rassicurato che il medico di famiglia farà la terapia sanitaria. Per quanto riguarda il discorso alimentare, come credo ha già dichiarato il sindaco, noi stiamo rifocillando questo signore attraverso, abbiamo avuto la disponibilità della misericordia di San Mango, sessione di Bisaccia, nella persona della coordinatrice Marta Scotece che si farà carico di recapitare pasti alimentari, derrate alimentari alla porta del cinese che poi dopo le consumerà, cucinerà, farà quello che riterrà opportuno. La quarantena di Wang durerà fino al 19 febbraio come disposto dal servizio sanitario dell'ASL e in questi giorni di concerto con la locale stazione Carabinieri, anche per quanto riguarda le forze dell'ordine, noi ci alterniamo con turni di vigilanza, ma non una vigilanza stretta, vigilanza per capire se magari ci potrà essere qualche fuoriuscita di questa persona che comunque si è mostrata molto molto collaborativa.